Siamo a Campania Tube, siamo all'aiuta di Montevergine, siamo in compagnia del... Signore, 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 una piccola intervista. No, 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 mi ringrazio. Ci illustra un attimo la festa. Perché io non sono del luogo, non ti so... Di dove siete? E sono di Avellino e quindi qua mi trovo per furo casa. La prima volta quindi che vennerà questa manifestazione? No, sono venuta altre volte, però adesso è... State un po' vivendo un po' meglio? Come l'avete trovata in generale? È molto bella, veramente, è ben organizzata, è molto bella. Avete assaggiato qualche pietanza culinaria? O non ancora? È ancora presto per mangiare? Sì, sì, ho assaggiato, delle cose buone. In generale ti ho trovato un'ottima festa quindi. Molto bella, c'era una bella atmosfera ieri sera, si sentiva molto la festa. Benissimo, la ringraziamo. Un saluto ai amici di Campania Tube dalla Utah.